A seguito dei danni causati dal fulmine che ha colpito la cupola della chiesa dell'Annunziata di Montepagano, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ha deciso di far sgomberare quattro famiglie e chiudere le stradine al ridosso della chiesa Corso Umberto e Vicolo Patrizzi e ha attivato il COC, il centro operativo comunale per gestire l'emergenza. L'impatto del fulmine con la lanterna della cupola ha provocato danni importanti alla struttura e la caduta di pietre, legno e calcinacce all'interno dell'edificio. Il fenomeno meteorologico ha suscitato grande paura tra i residenti. Mi trovavo in piazza, ho sentito una botta estremamente proprio, una botta forte e basta. Ho messo tanta paura un po' a tutti perché diluviava sicuramente, però questo fulmine ha rovinato l'equilibrio dei paganesi. Io ero qui al lavoro, diluviava, ero da sola, è stato proprio un boato, si pensava addirittura ci fosse esplosa una bomba, quindi tanta tanta paura, sì. Una situazione molto delicata, ovviamente si è provveduto a chiudere le strade, sono state evacuate alcune famiglie, ci si augura che si intervenga il prima possibile? Sì, ci auguriamo che questi lavori vengono fatti il prima possibile per le famiglie, per i cittadini, per la chiesa, per Montepagani, insomma. I detriti provocati dalla deflagrazione sono stati lanciati per un raggio di decine di metri cadendo lungo le vie limitrofe, fortunatamente senza provocare danni a persone. A fini precauzionali, le famiglie le cui abitazioni sono al ridosso della chiesa sono state alloggiate all'interno di strutture ricettive fino a cessato pericolo. Proprio ieri sera queste famiglie hanno dovuto lasciare le proprie case, appunto una questione di sicurezza per il pericolo della caduta del lanternino, quindi hanno fatto bene l'amministrazione insieme ai Vigili del Fuoco a fare questa evacuazione. Hanno dovuto ovviamente chiudere le strade, adesso è importante capire quale passo fare. Sì, soprattutto mettere subito in sicurezza quella che è la chiesa, appunto per permettere, secondo me, il rientro alle famiglie nelle proprie abitazioni e per poi iniziare tutte quelle che sono le opere di restauro e messe in sicurezza della chiesa. La speranza è appunto quella che riguardi una piccola parte della cupola che permette almeno l'utilizzo della chiesa in attesa poi del recupero di tutta parte sovrastante.